Un saluto a tutti, soprattutto agli amici di Riviera al Fronte, anche quest'anno ci troviamo a festeggiare, a onorare il 25 aprile con questo video commento e questa maratona online sul canale di Riviera al Fronte. Il giorno del 25 aprile è un giorno che ogni anno qui a Mira vogliamo ricordare sempre con grande trasporto e con grande significato. La piazza che sta alle mie spalle è Piazza 9 Martiri, appunto il ricordo di chi ha dato la vita per permetterci di uscire dall'incubo del nazifascismo, i nostri partigiani. Ecco, lo spirito del partigiano deve essere un po' lo spirito che ci chiede di andare avanti dopo questo lungo periodo di difficoltà. Perché le difficoltà adesso sono davanti a noi, perché dovremmo riaffermare i valori della nostra Costituzione che ho qui insieme a me, ovvero i valori di uguaglianza, i valori di libertà, i valori del rispetto, diritti, doveri scanditi nella pietra per essere fondamento delle nostre società. Di ieri, di oggi e soprattutto di domani. È inutile negarlo. Le grosse periodi di crisi come questo mettono chiaramente in difficoltà il nostro vivere insieme. Ed è per questo che è fondamentale ricordare la memoria di quello che è stato, quindi anche di cosa è voluto essere per tante persone il 25 aprile. Quindi è una festa di liberazione. La festa per rivendicare ancora una volta la propria capacità di dire no, no alle disuguaglianze, no alle dittature, no ai totalitarismi, no alle persecuzioni, no a chi semina odio. Quindi 25 aprile come festa della libertà e soprattutto festa di chi costruisce città e società per il bene degli altri. Buon 25 aprile da Mira e ancora un grande saluto agli amici di Riviera Fronte.